Questo video riguarda i migliori tre palloni da calcio galleggianti overball. Il vincitore della qualità nel nostro palloni da calcio galleggianti overball va alla ranee air over. Questo over air calcio è aggiornato e alimentato da una batteria agli ioni di litio ricaricabile. Pertanto, non è necessario sostituire la batteria né spendere troppa energia. Assassino di tempo perfetto per i giorni piovosi o nevosi. Questa palla overball per bambini di calcio da interno ha bellissime luci led multicolori, che aiutano notevolmente ad attirare l'attenzione dei bambini e rendono illimitato il gioco notturno di tuo figlio. Questo pallone da calcio fluttuante è realizzato in plastica tossica, bordo in schiuma, flessibile, sicuro e non ferisce i piedi dei tuoi bambini. Per aumentare la varietà di giochi, abbiamo aggiunto mini palloni gonfiabili e un piccolo push up al set da calcio over. Questo air over calcio è favorevole per aumentare la comunicazione e l'interazione dei bambini con la famiglia e gli amici. È la scelta migliore per il compleanno dei bambini, Natale e altri regali di festa. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente qui sotto nella descrizione del video. L'alternativa è il Bazztoi pallone. Giocattolo da calcio sicuro per i bambini. Il pallone da calcio ad aria compressa è sicuro per i bambini. Grazie al lato morbido, calciare sul fianco non dà nessun dolore. Il calcio aereo adotta il principio dell'hockey e del calcio, offrendo diversi metodi per divertirsi. Non devi usarlo come un giocattolo scivoloso ma trattarlo come un pallone da calcio, anche spingendolo con le mani. La palla è realizzata con materiali atossici e rispettosi dell'ambiente. Il potente motore e la ventola integrati creano il flusso d'aria per permettergli di galleggiare su una superficie liscia. Hai solo bisogno di un posto piccolo. Puoi giocare a calcio con i tuoi figli a casa in qualsiasi momento. Buono per promuovere la relazione genitore-figlio. I bambini possono stare insieme per fare meravigliose partite di calcio. Questo pallone è un grande regalo per gli amanti del calcio, sviluppa l'interesse dei bambini, adatto ai principianti. Un regalo di compleanno perfetto, un regalo di Natale, regalo di Pasqua ecc. Il vincitore della performance premio nel palloni da calcio galleggianti overball è il Lead Star Pallone. Aggiornamenti del motore. Questo nuovo pallone calcio Starlight è dotato di un motore più potente. Questo pallone aerostatico può creare luci a LED colorate a forma di stella e le sue luci possono riflettersi sul muro bianco. Pallone da calcio ricaricabile realizzato con materiale ABS a tossico, questo giocattolo è sicuro al 100% per i bambini. Basta accendere il potente e silenzioso ventilatore dell'aria e calciare dolcemente la palla galleggiante alimentata ad aria che scivolerà incredibilmente sul pavimento. Il calcio per bambini adatto sia per il gioco al chiuso che all'aperto, può essere utilizzato in giardini all'aperto, parchi, spazi aperti o pavimenti interni, tappeti sottili o scantinati. Inoltre, il peso più leggero aiuta la palla galleggiante a galleggiare meglio in aria e può evitare efficacemente gli ostacoli sul terreno. Questo pallone da calcio è molto adatto come regalo per le feste di compleanno per bambini di età compresa tra 3 e 10 anni. Se ti piace il video apprezzeremmo un pollice in su o anche un commento.